Per correre in bicicletta alcuni tra i luoghi più belli della Puglia, Bari e Otranto, le saline di Margherita di Savoia, le campagne tra Ostuni e Fasano, il lago di Varano, degustando prodotti tipici locali. È l'obiettivo di Magna Longa, la manifestazione organizzata da Lega Ambiente con l'assessorato alla mobilità della Regione Puglia per promuovere il cicloturismo in una terra in cui l'uso della bicicletta è ancora poco sviluppato. Il territorio pugliese è molto appetibile per i cicloturisti, appetibile perché è un territorio ampiamente pianeggiante, non ci sono grandi variazioni altimetriche, è un territorio ricco di centri storici, di borghi con tradizioni culturali e dello gastronomico. Quindi per noi è pronto per accogliere i cicloturisti e quindi proprio per questo noi quest'anno per far decollare un po' il cicloturismo in Puglia abbiamo organizzato questa iniziativa che si chiama la Magna Longa, un'iniziativa che è nata in alcuni paesi del nord Italia che vede gruppi di persone passeggiare con la bicicletta nei boschi o nei paesi alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali e delle prelibatezze no gastronomiche dei luoghi visitati. Bisogna certamente fare anche piste ciclabili, fuori dalle città abbiamo incominciato a farlo con un progetto di 20 milioni di euro attraverso il quale le aree vaste stanno realizzando primi percorsi e se ne stanno realizzando alcune nei parchi, se ne stanno realizzando alcune lungo gli itinerari dell'acquedotto e stiamo per partire con un altro bando nel quale diciamo ai comuni di individuare degli anelli all'interno del tessuto urbano stiamo realizzando una mappa della viabilità rurale minore delle strade non trafficate che possono essere utilizzate anche dal punto di vista mobilità ciclistica proprio per favorire sia da parte dei cittadini residenti sia da parte dei turisti la transitabilità del nostro, la fruibilità del nostro territorio anche con la bicicletta e in ultimo stiamo lavorando di concerto, lavori pubblici con l'urbanistica perché comuni e provinci per ogni interventi che faranno di manutenzione e di potenziamento della rete stradale si realizzino, si applichi la legge attraverso la quale si impone la realizzazione di piste ciclabili L'iniziativa partirà il 21 maggio da Bari per informazioni e iscrizioni si possono consultare il sito di Magnalonga e quello di Lega Ambiente Puglia